è un'emozione molto molto grande ma in particolare questo in verità perché appunto come già dicevo fuori onda per me Sherwood è una cosa che mi porto dentro veramente da bambino e quindi da da Locke al totale Born and Rise in Padova fare il main stage all'apertura che è sempre sotto una cosa che tipo ok bisogna andarci per forza perché apre è molto importante poi per quanto riguarda le altre date sicuramente sono importanti allo stesso modo però insomma diciamo che veniamo da un periodo fermi da un bel po' di tempo e sono molto contento di farle però sì vorrei ancora di più diciamo quindi intanto partiamo da qui carichi con la prima data qua a Sherwood e poi vediamo cosa viene fuori sono diventato un po' più zen e quindi riesco a entrare nella dimensione live in una maniera un po' più tranquilla portare le cose che ho adesso live per me a livello emotivo è abbastanza complicato cioè che sono cose che sento ancora molto e in parte non sento per niente quindi è un periodo che comunque è passato quindi e per fortuna è passato e quindi riesco a distaccarmi da quella cosa lì però portarlo live è sempre un po' difficile perché più che altro per la gente perché non so se la gente ha voglia ancora di entrare in quel tipo di paranoia lì è stata ascoltata dopo il lockdown oppure durante il secondo terzo quarto quinto lockdown non mi ricordo più però non so se hanno ancora voglia di quella cosa lì quindi però è arrivata cioè i feedback sono che è arrivata quindi magari c'è una parte di noi che ancora voglio ascoltare quella cosa lì e quindi io cerco sempre di impegnarmi al massimo per farla al meglio anche se comunque vi assicuro è passata allora Tegada è esattamente questa cosa qua è nata in un periodo in cui non si potevano fare i concerti quindi io come Jesse De Faccia non potevo fare i concerti quindi gamba la batteria con me non poteva suonare e Tex che è dischi sotterranei è un nostro carissimo amico da tantissimo tempo siamo detti ok non possiamo fare i concerti ma le prove si possono fare perché non facciamo delle prove e abbiamo iniziato semplicemente a suonare poi non dirò niente però vediamo vediamo cosa verrà fuori essere artisti indipendenti sicuramente ha un valore gigantesco per la mia carriera che mi auguro sia più longeva possibile cioè quello che interessa a me da indipendente o meno è comunque riuscire sempre a rimanere me stesso cioè non avere il vincolo non avere ok queste cose sono andate bene quindi facciamole uguali e facciamole in tre mesi perché se no ci perdiamo perché non è una cosa che proprio mi interessa non ho mai fatto così sono venuti fuori tanti pezzi in quattro anni ma semplicemente perché io volevo che fosse così e perché sotterranei mi ha supportato al 100% in questa cosa qua quindi chiaramente vedo il mio futuro molto 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 indipendente poi sai mai cioè se qualcuno mi propone il contrattone mi molla dei k seri per per fare effettivamente quello che voglio perché no cioè ci posso tranquillamente pensare basta che non mi dica l'effetto da mettere sulle chitarre o mi cambi le parole da scrivere insomma però aperti a tutto come sempre grazie